L'idea di andare in giro con una sartoria mobile come progetto artistico mi è già venuto nel 2010. Questa volta in questo progetto che ho dato il nome Querschnitt non giro più da sola ma invito altri sarti, professionisti o gente che lavora sul tessuto di venire con me e di condividere le loro esperienze con la gente del posto. Il bello di questo progetto è che lavorando insieme la lingua non è importante. Si trova un altro modo di comunicare, forse non con queste solite domande ma anche in una maniera un po' più profonda.